Intanto chiedo alla mia guida di assistermi in questa sessione di metafonia. C'è qualcuno? Qualcuno è con me? C'è Mastello, no? Quanti siete? Lo padre E il Dr. Wallendee? 0-2-0-3, thank you. Gustavo, seguire. Tu sai cosa voglio chiederti? Sì, ho fatto sparire tutti. Ho fatto sparire tutti. Quattro, non lo so, non lo so, non lo so. Ringrazio tutti quanti, vi abbraccio. Un abbraccio a tutti quelli che sono lì presenti. Contenta. Grazie.